tra poco Ameria Radio in diretta 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 Ameria Radio in diretta Ameria Radio in diretta ameria radio presenta misteri non deve morire il caso orlandi di e con franco casa di dio avvocato sindona la domanda è piuttosto banale ma non saprei proprio come cominciare come sta abbastanza bene io così come deformazione professionale o per hobby leggo molto molti di economia è chiaro che qualche volta mi diletto a tornare ai vecchi studi questi giorni ho letto molto di nici di hegel i miei preferiti evidentemente molta filosofia l'uomo no no io credo che nici sia stato io ho sempre sostenuto quando era un ragazzo che è stato interpretato male non è stato letto bene non credo che nici volesse parlare di un super uomo come imporlo come super uomo nici ha fatto delle qualifiche degli uomini e tanto è vero che non ha voluto dire questo che per lui uno degli uomini più forti cioè se il super uomo è socrate benissimo io l'accetto come super uomo socrate socrate perché ha sopportato con tranquillità la prigione e ha sopportato la morte e l'ha affrontata anche quella tranquillamente con serenità se questo è un tipo di super uomo di cui si è tanto parlato con disprezzo io l'accetto l'ho detto un'altra volta che quando lei disse che io ero considerato un genio che o dell'imbroglio finanziario io disse che non mi sono mai considerato un genio io ho detto che mi considero un uomo pieno di umiltà tanto è vero che ho sempre rifiutato nei momenti del successo di accettare qualsiasi carica che potesse dare la sensazione di esibizionismo no ma lei ha avuto attestati no ma gli attestati mi provenivano ma erano attestati quasi umani le sì un certo momento quando io feci una conferenza per aiutare i bambini handicappati ebrei e raccorsi 3 milioni di dollari in una notte chiaro loro hanno ritenuto gli diamo un attestato ma non chiede di essere presidente di qualche cosa come una fatina benefica in fondo no non credo era un vero umano che ho ritenuto sempre di fare quando ho potuto signori e signori buonasera e benvenuti alla puntata di misteri che come avete ben capito e vedete non va in onda di giovedì perché abbiamo fatto uno spostamento in virtù della prima del teatro alla scala che ci vedrà impegnati in una diretta appena terminato il lo spettacolo e quindi abbiamo dovuto spostare le maestranze su questa diretta detto ciò avete sentito abbiamo parlato con la fata c'era sul l'audio sembrava un signore che stava in biblioteca però era michele sindona che penso che stava come si dice dalle parti nostre al gabbio in questo momento che lo intervistava enzo biaggi e oggi scopriremo il perché insieme a umberto alunni buonasera paolo buonasera a tutti i nostri amici ed ascoltatori chiaramente insieme a noi c'è il padrone di casa e quindi colui che tirerà le fila di questa serata interessantissima che è la terza puntata che poi riguarda il caso orlandi franco casa di dio ciao franco ciao buonasera buonasera umberto buonasera paolo buonasera a tutti e devo dire che paolo mi sorprende sempre con la scelta degli audio che se non me l'aspettavo il sindona fatina più che altro a un certo punto sembrava che era un benefattore che passava per strada per caso dopo ce n'abbiamo un altro di un altro personaggio e quindi attendo con ansia anche l'altro audio di un altro benefattore un altro benefattore sicuramente che poi se abbiamo parlato di fatina e non fatina e comunque c'entra un po' pinocchio anche lì però va bene abbastanza abbastanza forse più pinocchio in effetti che fatina vai franco allora però diciamo che per chi magari non lo conosceva non lo conosce ascoltando questo audio avrà pensato ma che brava persona che raccoglieva che raccoglieva soldi per i bambini ebrei mi sembra aver capito quindi 3 milioni di dollari pone anche spicci ma niente comunque vabbè scopriremo stasera in effetti qual era la figura di Michele Sindone insieme a quella che era la figura di Roberto Calvi perché stasera nella terza puntata nel terzo appuntamento di Misteri non deve morire quindi andremo a mettere un'altra di quelle tessere del puzzle di cui parlavamo la settimana scorsa per capire qual era il periodo in cui si svolge la vicenda di Emanuele Orlandi dobbiamo capire qual è il periodo storico soprattutto del nostro paese e per quanto riguarda la storia del nostro paese in quegli anni quindi anni 70 e 80 del secolo scorso non possiamo non parlare di questi due personaggi di Roberto Calvi e Michele Sindona che mi vorrebbe da dire nel bene e nel male ma poi forse è più più nel male che nel bene hanno condizionato la vita economica sicuramente finanziaria ma poi di riflesso anche politica del nostro paese e in qualche modo hanno condizionato anche la storia della vicenda di Emanuele Orlandi io vorrei cominciare parlando però di Roberto Calvi dell'altra Fatina o dell'altro Pinocchio dipende dalle interpretazioni che gli vogliamo dare è Roberto Calvi che nasce a Milano negli anni 20 e nel suo pedigree è già segnato già contrassegnato quello che dovrà essere il suo avvenire perché è il figlio di un dirigente della Banca Commerciale Italiana che è il primo impiego appunto di Roberto Calvi Roberto Calvi fa studi economici e il primo impiego che riesce a trovare è quello proprio nella Banca Commerciale Italiana dove lavorava come dirigente suo padre ma poi quell'incarico sta streffi in qualche modo a Roberto Calvi che nel 47 entra in quella che poi diventerà di fatto la sua banca un nome che la maggior parte degli italiani conosce è quella del Banco Ambrosiano Calvi entra nel Banco Ambrosiano che è una banca di ispirazione prettamente cattolica tanto che è strettamente controllato dallo IOR nella scorsa puntata abbiamo visto che cos'è lo IOR per chi avesse perso il precedente appuntamento ricordiamo che lo IOR è la banca della città del Vaticano dello Stato Vaticano quindi il Banco Ambrosiano è una banca di ispirazione cattolica strettamente controllata dallo IOR in cui Calvi entra come impiegato nel 1947 ma non come un impiegato qualsiasi perché è responsabile del settore estero del Banco Ambrosiano e questo in carico gli consente di acquisire una grande competenza in quella che allora è una materia ai più sconosciuta perché siamo nel secondo dopoguerra quindi diciamo che ci sono altri problemi e altri interessi che interessano appunto il paese e la popolazione nel suo insieme qual è l'incarico che viene dato a Calvi come responsabile del settore estero? è quello di occuparsi dei cosiddetti paradisi fiscali quindi quei paesi che in giro per il mondo consentono di fare investimenti o depositi bancari a condizioni particolarmente vantaggiose soprattutto i paradisi fiscali sono quei paesi dove a chi deposita i soldi nelle banche di questi paesi viene chiesto obiettivamente poco non vengono fatte molte domande non si chiede molto ai correntisti che aprono conti e depositi nelle banche di questi paradisi fiscali quindi sono i luoghi ideali dove parcheggiare del denaro non troppo pulito e dove possibilmente anche riciclarlo prima di farlo rientrare nei paesi di provenienza quindi Calvi acquisisce una grande esperienza in materia di paradisi fiscali e questo poi gli ritornerà utile negli anni seguenti lavora a Milano, lui è nato a Milano quindi vive a Milano, lavora a Milano e Milano nel secondo dopoguerra diventa nel giro di pochi anni la capitale finanziaria del nostro paese attirando quindi ingenti capitali ma attirando soprattutto un gran numero di persone che hanno a che fare con l'ambito economico finanziario tra questi quello che abbiamo sentito parlare all'inizio in veste di semi quasi benefattore, di simil benefattore Michele Sindona Michele Sindona che ha gli stessi anni di Roberto Calvi sono tutti e due del 1920 ma ha un background diverso perché mentre Calvi è figlio di un bancario e quindi ha nel suo DNA appunto questa professione Michele Sindona è un siciliano classe 1920 che non ha nulla a che fare con le banche la sua famiglia non ha mai avuto nulla a che fare con le banche ma Michele Sindona è uno che sa come darsi da fare tant'è vero che subito dopo lo sbarco alleato in Sicilia nel 43 capisce che è il caso di schierarsi dalla parte degli alleati si schiera dalla parte degli alleati entra in contatto con una serie di ufficiali americani che fanno parte del governo militare alleato e queste amicizie che poi Sindona si porterà avanti nel corso degli anni seguenti in quel particolare momento quindi siamo ancora in piena seconda guerra mondiale gli consentono di dedicarsi a delle attività commerciali non esattamente leciti perché senza che nessuno poi lo disturbi più di tanto soprattutto il governo militare alleato perché Sindona inizia la sua attività che potremmo dire commerciale dedicandosi al contrabbando di generi alimentari voi capite che nella Sicilia della seconda guerra mondiale un territorio dove già c'era una situazione particolare per via dell'influsso della malavita organizzata arriva un governo militare alleato che ha ben altri problemi che non quello di combattere la mafia anzi forse dalla mafia può ottenere qualche piccolo o un po' più grande aiuto c'è un mondo, un sottobosco di faccendieri che si dedicano alle attività più disparate e meno lecite qualche volta Sindona è uno di questi ma Sindona ha la particolarità come dicevo prima di riuscire a intrecciare dei rapporti molto stretti soprattutto con gli americani rapporti che poi continueranno anche negli anni seguenti Sindona come dicevamo non viene da non proviene da una famiglia legata al mondo economico finanziario ma lui svolge degli studi appunto di tipo economico ed è anche particolarmente in gamba in questa attività tanto che appena finita la guerra si trasferisce a Milano come dicevamo prima Milano diventa la capitale del mondo economico e finanziario italiano che uno come Sindona bravo, scaltro e ambizioso non può che trasferisse a Milano apre un suo studio di consulenza fiscale e tributaria e nel giro di pochissimo tempo diventa uno dei commercialisti più ricercati di Milano specializzandosi guarda caso nel funzionamento nell'esportazione dei capitali all'estero e nel funzionamento dei paradisi fiscali quindi ci troviamo di fronte a due uomini che hanno entrambi avviato la propria attività all'interno del mondo finanziario che sono curiosamente tutti e due specializzati nell'esportazione e nella gestione di capitali verso l'estero che sono fra i primissimi esperti in Italia nella conoscenza e nella gestione dei paradisi fiscali ma soprattutto ci troviamo di fronte a due uomini che si trovano in poco tempo a gestire una massa di denaro enorme che proviene dalle loro banche perché dico le loro banche? perché Roberto Calvi come dicevamo lavora al Banco Ambrosiano ma ha una grande libertà d'azione perché gode della fiducia del presidente del Banco Ambrosiano e ha una grande libertà di azione sulla gestione economica e patrimoniale che gli è stata affidata Michele Sindona oltre che essere uno dei più ricercati commercialisti e fiscalisti di Milano ha avviato una sua attività bancaria in proprio perché negli anni seguenti crea quella che è una delle prime banche private del nostro paese chiamandola appunto Banca Privata Italiana sono due uomini quindi molto in gamba nel settore finanziario ma sono due uomini anche che hanno dei grandi legami personali e questo è l'altro aspetto che in qualche modo li accomuna abbiamo già parlato di Michele Sindona e della sua facilità di rapporti con personaggi legati al mondo americano conoscenze che provenivano dalla seconda guerra mondiale ma che poi in qualche modo si ampliano Sindona come fiscalista è fiscalista anche di un cittadino italo-americano che si chiama Joe Adonis che è uno dei collaboratori più stretti del boss della mafia italo-americana Lucky Luciano questo Joe Adonis è stato espulso dagli Stati Uniti per tutta una serie di motivi di reati finanziari e legati appunto al mondo mafioso è stato espulso dagli Stati Uniti e si è venuto a rifugiare in Italia in modo particolare a Milano e come suo consulente economico e fiscale ha scelto proprio Michele Sindona questo è uno dei motivi per cui Sindona comincia a farsi strada anche negli Stati Uniti ha degli agganci importanti degli agganci nel mondo della malavita sicuramente però sono degli agganci comunque importanti forse però la conoscenza più importante di Michele Sindona è quella che fa a Milano con l'allora arcivesco di Milano che risponde al nome di Giovanni Battista Montini che sarà poi il futuro Papa Paolo VI perché è l'amicizia forse più importante di Sindona? perché quando Paolo VI diventa Papa alla morte di Giovanni XXIII Michele Sindona è proiettato all'interno delle finanze vaticane la conoscenza con l'arcivesco di Milano l'ex arcivesco di Milano Montini Papa Paolo VI gli spalanca le porte del mondo finanziario del Vaticano che in quel momento è una grande cosa perché chi ha seguito la seconda puntata di Misteri sa bene come lo IOR si trovi a gestire un'enorme quantità di denaro soprattutto nell'immediato secondo dopoguerra un'enorme quantità di denaro che poi viene indirizzata in operazioni economiche e finanziarie anche tra le più speculative e in questo sia Roberto Calvi che Michele Sindona in qualche modo si faranno da tramite tra appunto la Banca Vaticana tra lo IOR e i paradisi fiscali e le multinazionali e i grandi conglomerati economico-finanziari in giro per il mondo grandi e importanti amicizie di Michele Sindona ma anche Roberto Calvi ha le sue amicizie e i suoi appoggi come dicevo prima uno dei suoi più importanti delle sue più importanti conoscenze è proprio quella con il direttore generale e poi presidente del Banco Ambrosiano che si chiamava Alessandro Canesi Alessandro Canesi si fida ciecamente di Roberto Calvi e gli lascia carta bianca su tutte quelle che sono le più importanti operazioni finanziarie di quegli anni però anche per Calvi c'è un'amicizia è un incontro che supera in importanza quello con il direttore del Banco Ambrosiano è proprio l'incontro che nel 1968 Calvi ha con Sindona fino a quel momento i due uomini si erano sfiorati operavano comunque entrambi nel mondo finanziario milanese ma non c'era mai stata una conoscenza diretta tra i due nel 68 Sindona e Calvi si incontrano e la conoscenza con Michele Sindona è la vera fortuna inizialmente e poi però la sfortuna di Roberto Calvi perché Sindona introduce Calvi in un mondo che fino a quel momento per lui era stato off limits grazie alla conoscenza con Sindona che è amico personale del presidente del Banco Ambrosiano Canesi Roberto Calvi vede accelerare la sua carriera all'interno del Banco Ambrosiano nel giro di pochi anni passa dall'essere direttore generale nel 1971 a vicepresidente nel 74 e presidente del Banco nel 75 quindi capire che per uno che è entrato nel Banco Ambrosiano come semplice funzionario ritrovarsi nel giro di un ventennio a fare il presidente di quella banca come dicevamo è strettamente legato allo IOR è veramente fare una carriera vertiginosa come fa Calvi a fare questa carriera così fulminante? beh la conoscenza con Sindona oltre che avere un effetto positivo per l'amicizia che c'è con Canesi ha un'importanza fondamentale per Calvi perché nel 1975 Sindona riesce a far conoscere Roberto Calvi che è un personaggio che fino a quel momento in effetti nessuno conosce o pochi conoscono proprio per via di quello che fa sto parlando di Licio Gelli il capo della loggia massonica P2 Licio Gelli da capo di una loggia massonica capite bene che non è conosciuto dal grande pubblico ma la sua influenza in quel momento nel mondo politico ed economico, industriale, italiano è immensa e quindi con l'appoggio di Licio Gelli e della P2 Roberto Calvi che entra nella loggia massonica con il numero di tessera numero 519 a quel punto ha le spalle coperte si sente le spalle coperte perché l'appoggio di Sindona e della P2 da un lato e in qualche modo dello IOR dall'altro gli garantiscono quella sicurezza economica ma soprattutto quella copertura politica che può permettergli di lanciarsi in spregiudicata operazioni finanziarie questo è quello che crede Calvi naturalmente poi vedremo nel corso della puntata che non sarà sempre esattamente così però in quel momento siamo nella prima metà degli anni 70 l'influenza di Roberto Calvi e del Banco Ambrosiano crescono in maniera esponenziale il Banco Ambrosiano è partecipato dallo IOR il Banco Ambrosiano si offre di fare da tramite per riciclare il denaro che viene convogliato da parte della Banca Vaticana e per avviarlo verso operazioni finanziarie ed economiche in tutto il mondo quella conoscenza dei paradisi fiscali che Roberto Calvi aveva acquisito in tanti anni di lavoro come funzionario del Banco Ambrosiano comincia a dare i suoi frutti si forma una triade che vede coinvolti non solo il presidente del Banco Ambrosiano Roberto Calvi ma anche il presidente della Banca Privata Italiana Michele Sindona e con loro o meglio sopra di loro a muovere i fili come si fa con le marionette c'è un personaggio che conosceremo nel prossimo appuntamento di Misteri ma di cui bisogna accennare qualcosa stasera che è l'arcivesco Paul Marcinkus che è presidente dello IOR se c'è un personaggio che esce non voglio dire pulito da tutto quello che succede in quegli anni a livello economico e finanziario in Italia è Monsignor Marcinkus non ne esce pulito perché poi nel corso degli anni si scopriranno molte cose molte cose poco chiare e poco pulite fatte con l'approvazione di Marcinkus e fatte anche su ispirazione dello stesso Marcinkus ma sta di fatto che i due personaggi di cui stiamo parlando stasera vedremo fra breve fra breve faranno una fine non proprio edificante sia da un punto di vista processuale, giudiziario sia da un punto di vista proprio della loro esistenza in vita l'unico che ne uscirà pulito perché non passerà mai un giorno in carcere non verrà mai messo sotto processo e concluderà la sua esistenza terrena alla veneranda età di più di 80 anni vivendo tranquillamente in un paesino degli Stati Uniti più rurali è proprio Monsignor Marcinkus quindi colui che in qualche modo tira le fila di tutta questa grande organizzazione ma che poi alla fine ne esce più pulito di tutti gli altri siamo a metà degli anni 70 io qui mi appoggio, mi rifaccio a una metafora ciclistica perché so che Umberto in qualche modo apprezzerà perché c'è una parabola ascendente di Michele Sindona che io mi immagino da appassionato ciclista quale sono come una grande salita immaginiamo una grande salita del Giro d'Italia ne prendo una a caso, lo Zoncolan Michele Sindona si trova a pochi metri dal traguardo è al vertice della sua carriera, all'apice della sua carriera ma poi dopo aver passato il Gran Premio della Montagna inizia la discesa e la discesa spesso è, anzi, è sempre più pericolosa della salita quindi c'è il rischio che sbagliando una traiettoria, una curva basta poco per finire fuoristrada Michele Sindona arriva al vertice scale il suo Monte Zoncolan e poi comincia però la sua discesa comincia la sua discesa perché? perché il fatto di essere il primo banchiere privato italiano lo spinge e nel fatto di credere di avere le proprie spalle coperte dagli appoggi forniti dallo Gior, dal Vaticano dalla malavita americana, italo-americana lo spingono ad avventurarsi in tutta una serie di operazioni finanziarie sia in Italia che all'estero ad acquistare grandi partecipazioni azionarie a mettere a frutto, a mettere a segno anche delle speculazioni industriali, monetarie questo lo porta ad accumulare una grande ricchezza ma comincia anche a togliergli un po' di terreno da sottipiedi e quel terreno che ha sottipiedi comincia a franare quando? quando nel 1972 Sindona acquisisce il pacchetto di controllo di una delle più grandi banche americane che si chiama Franklin National Bank la Franklin National Bank è una delle più grandi e importanti banche statunitensi che nel 1972 Sindona acquisisce con una facilità disarmante pagandola con milioni di dollari di dubbia provenienza e mettendola, facendola entrare nella galassia di quelle che sono le società che controlla direttamente il finanziere siciliano ma nel giro di un paio d'anni succede quello che Sindona non avrebbe mai immaginato e che forse nessuno credeva possibile perché c'è un clamoroso croll azionario che porta al fallimento della Franklin Bank ma a catena provoca il fallimento anche di molte altre società gestite da Sindona tra cui proprio la banca privata italiana che era la cassaforte di Sindona la Franklin Bank perde nel giro di pochi giorni quasi tutto il proprio valore il 98% del proprio valore e Sindona deve accusare un collasso di 40 milioni di dollari questo lo mette a terra e Sindona come spesso avviene poi l'abbiamo sentito prima in veste di fatina benevola e grande procacciatore di sostentamento per gli orfani ma la gloria è molto vacua quindi si fa presto a passare dalle stelle all'estallo, dall'altare alla polvere quello che fino a pochi giorni prima fino a pochi mesi prima era considerato da tutti un mago della finanza internazionale perché soprattutto in un mondo dove gli italiani vengono guardati con un po' di sospetto un finanziere italiano che arriva negli Stati Uniti e quasi in contanti quasi cash compra una delle più grandi banche statunitensi riscuote da una parte il sospetto che ci sia qualcosa di poco lecito dietro ma dall'altra riscuote anche l'ammirazione del mondo finanziario economico statunitense quindi Sindona passa in pochi giorni dall'essere un mago della finanza internazionale ad essere considerato uno dei più grandi e potenti criminali e questo lo dice l'Economist nel numero del 5 ottobre del 74 quindi sono passati due anni dall'acquisizione della Franklin Bank e Sindona è passato dall'essere un mago della finanza ad essere considerato uno dei più grandi criminali della storia finanziaria fino a quel momento insieme contestualmente nello stesso momento in cui cominciano a collassare le finanze di Sindona le autorità giudiziarie soprattutto quelle statunitensi cominciano ad indagare su questo personaggio che dal nulla è diventato uno dei più grandi finanzieri mondiali cominciano ad indagare sulle sue società e da una di queste indagini emerge una lista che poi passerà alla storia come la lista dei 500 che riporta i nomi di 500 italiani la maggior parte dei quali è rimasta sconosciuta fino ad oggi e poi vedremo perché ma emerge la lista di questi 500 italiani che tramite l'appoggio di Michele Sindona avrebbero esportato illegalmente all'estero dei capitali servendosi proprio di Sindona delle sue banche delle sue società soprattutto di una società che si chiama Finabank che si trova a Ginevra quella lista dei 500 verrà distrutta appunto dai funzionari della banca svizzera ecco perché vi dicevo che non tutti anzi la maggior parte di quei 500 nomi sono rimasti sconosciuti perché quando le autorità giudiziarie iniziano a indagare sul crack delle banche di Sindona gli svizzeri da bravi banchieri da bravi ignomi sempre attenti a proteggere l'anonimato e la privacy dei propri clienti che cosa fanno come prima cosa distruggono la famosa lista con i 500 nomi e quindi nessuno saprà mai quali erano realmente questi personaggi qualche nome però nel corso degli anni è emerso soprattutto a seguito dei vari procedimenti giudiziari che ci sono stati e io vorrei concludere questa prima parte citando alcuni di questi nomi perché perché andandomi a leggere sono rimasto meravigliato soprattutto da un nome perché uno si aspetta di trovare un personaggio in questa lista come Angelo Moratti il famoso petroliere ex patron dell'Inter degli anni 60 e te l'aspetti di trovare Angelo Moratti perché immaginando il patrimonio che poteva aver accumulato in quegli anni e che poi è rimasto tale anche negli anni seguenti te lo puoi aspettare che un personaggio così magari faccia qualcosa di quello che è possibile per esportare una parte del proprio capitale all'estero e sottrarlo al fisco italiano ti aspetti di trovare in questa lista ad esempio i fratelli Caltagironi noti costruttori o magari usando un termine forse più appropriato palazzinari romani che hanno accumulato milioni di euro di oggi miliardi di lire di quegli anni e quindi anche loro come Moratti vogliono esportare qualcosa all'estero quelli che invece non ti aspetti di trovare sono due nomi che io ho trovato in questa lista e che mi hanno lasciato alquanto sorpreso uno perché è il nome di un campione olimpico di Roma 60 che si chiamava Raimondo D'Inzeo era stato campione olimpico a Roma 60 nell'equitazione ma soprattutto era un ufficiale dell'arma dei carabinieri e sembra che Raimondo D'Inzeo facesse parte appunto di questi 500 italiani facoltosi che si sarebbero serviti dei favori dei servigi di Sindona per esportare soldi all'estero e poi l'altro nome che mi ha sorpreso è quello dell'onorevole Filippo Micheli mi ha sorpreso perché al di là del fatto che parliamo di un politico e che quindi non stiamo parlando di un grande finanziere di un petroliere, di un costruttore parliamo di un politico che dovrebbe avere a cuore il bene del suo paese ma soprattutto dovrebbe essere il primo soggetto a rispettare le leggi che magari lui stesso ha contribuito a far approvare ma poi mi ha colpito perché Filippo Micheli è un personaggio che proviene dal nostro territorio quindi dalla bassa Umbria e sinceramente da Umbro ignoravo questo aspetto e quando sono andato a leggere quei nomi ho trovato anche quello dell'onorevole e l'ex onorevole Filippo Micheli ex segretario amministrativo dell'ADC francamente mi ha sorpreso e non poco un ultimo parallelo gli ex segretari amministrativi dell'ADC o i segretari amministrativi dell'ADC nel corso di una decina, quindici anni sono stati tutti, hanno fatto tutti una brutta fine nel senso che comunque si sono ritrovati tutti invischiati in situazioni antipatiche perché se vi ricordate Severino Citarissi ex segretario amministrativo della democrazia cristiana coinvolti in pieno nello scandalo di Mani Pulite quindi evidentemente c'era qualcosa che portava questi personaggi a voler in qualche modo gestire in maniera diciamo così un po' allegra le finanze personali ma anche quelle del partito io per la prima parte mi fermerei qui perché poi andiamo a vedere quello che succede dopo il crash delle banche di Michele Sindone e soprattutto quello che succede a Roberto Calvi Beh comunque abbiamo visto prima la Fatina poi è arrivato Mago Merlino poi ci mancava il terzo che era silente probabilmente abbiamo messo insieme i tre maghi una cosa particolare proprio devo dire a me quello che mi colpisce di tutto questo racconto ma anche degli audio che mi sono ascoltato un pochino in questi giorni è la trasparenza che ostentano nel senso come diceva prima sto bene sono un genio sono un uomo che ha fatto delle scelte cioè con una tranquillità allora comincia a fare contrabbando con gli americani quando era dopo la guerra è amico di un gangster leader di un mafioso cioè è chiaro che la strada che doveva intraprendere era un po' segnata insomma mi pare che non era tanto un filosofo insomma ma no Umberto no beh indubbiamente sì lavoravo in banca quindi tutte quelle persone che lavorano in banca poi sono stranissime è normale io ricordo una parte diciamo adesso hai citato anche di Ciogelli per così dire ho assistito assolutamente in maniera indiretta anche lavoravo lavoravo da quelle parti al funerale di Ciogelli Ciogelli è nato a Pistoia e il funerale si è svolto a Pistoia se non ricordo male al dicembre 2015 io mi ero appena insediato e la città ovviamente una città che ha dimensioni piccole insomma ovviamente come Terni aveva un grado di mobilitazione importantissimo insomma una cosa veramente impressionante è chiaro che queste cose hanno fatto la storia hanno fatto la storia della nostra della nostra Italia nel bene o nel male quello che tu dicevi Paolo in maniera molto seria devo dire che normalmente viene appellata la sindrome dell'impunità nel senso che c'è ovviamente da parte di chi ha il potere la sensazione la pervasione proprio completa di non dover rispondere alle regole di non avere la necessità di rispondere alle regole e quindi praticamente nasce questa sindrome si compone si monta come la panna ma purtroppo poi alla fine insomma esce fuori quello che esce fuori noi abbiamo generali che dubbiamente reclamano il diritto all'odio persone che chiaramente escono fuori diciamo dal loro ruolo istituzionale che dovrebbe in qualche modo insegnare qualcosa e scrivono vabbè anche Franco scrive vabbè questo però però volevo dire ci sono diciamo delle situazioni dove probabilmente la testa delle persone parte e si muove in maniera molto molto più veloce del parterre sul quale si orbita perché a volte poi il parterre li riporta no alla situazione un po' giusta magari non con la velocità del quale della quale si avrebbe bisogno perché poi è così ma poi c'è qualcuno che alla fine trova una corda qualcuno che alla fine prende una tanzia di caffè qualcuno che cioè alla fine diciamo le cose si compongono con buona pace della riflessione che veniva fatta probabilmente da ciascuno di loro in basso alla quale la sindrome dell'ompulità era una sorta di schermo di scudo al di là del quale c'erano le persone normali al di qua del quale c'erano loro e qui ovviamente mi viene un po' la rivocazione del Marchese del Grillo che stando in radio essendo una persona moderatamente educata e attenta alle fasce non posso dire ma il Marchese del Grillo diceva io so io eccetera eccetera e molto probabilmente anche in questa nelle riflessioni negli atteggiamenti che vengono elaborati da queste persone c'è lo stesso sentimento c'è un dispiacere però l'acume diciamo di queste persone l'intelligenza la grandissima capacità come venga piegata e orientata verso il lato oscuro della forza questo dispiace un po' in effetti è proprio così e poi stavo riflettendo anche su quello che ha detto Franco alla fine della sua prima parte quando parlava anche di tutte le persone che di questa lista famosa che si sono serviti di Sindona per distrarre dei dei capitali per portarli all'estero nei vari dici fiscali certo vedere alcune diciamo devo dire la verità mi fa più effetto di Inzeo devo dire anche per il suo ruolo no di tutore dell'ordine quindi mi fa un po' più effetto Filippo Micheli mi fa meno effetto sul fatto perché cioè come dicevi tu gli amministratori di partito spesso si sono trovati invischiati in certe cose quindi è probabile che ci sia entrato in mezzo adesso poi sai l'epoca era un po' era un po' così no? come abbiamo detto fino a Mani Pulite ma poi continuata in un altro modo però insomma sta continuando forse e quindi sai forse mi fa meno effetto mi fa effetto perché è un politico della nostra zona è un politico stimato quella è stata la mia sorpresa più che altro non in quanto politico non in quanto politico non in quanto segretario amministrativo ma in quanto esponente di questo territorio quindi quella è stata la mia più grande sorpresa e poi noi che stiamo qui nella bassa Umbria Umberto anche tu se tu parli con i nostri anziani che ancora si ricordano dell'onorevole Micheli non fanno altri di eh quando c'era Micheli eh quando c'era cioè è rimasta questa cosa insomma perché l'epoca proprio degli anni 60 70 è stata quella in cui l'onorevole Micheli e tanti altri come lui hanno diciamo forgiato no le i pensieri dei nostri anziani di oggi insomma e quindi beh questo è assolutamente assolutamente vero noi abbiamo qualche mese in più rispetto alla media e quindi ce lo ricordiamo eh ricordo anche che la fondazione diciamo ancora ancora oggi eh all'universale della morte diciamo fa mettere tutti i manifesti diciamo in tutta in tutta l'Umbria ma a dire di questo quello che viene è un pochino da pensare no ovviamente queste persone sono ricordate per quello che hanno fatto per la capacità di insomma in qualche modo seminare a pioggia delle utilità importanti no perché comunque sia hanno fatto hanno fatto del bene però vedi questo è anche è molto è molto vero no senza parlare del posto dove è nato non lo citiamo ma insomma basta guardare su su Filippini però c'era un fatto ehm si citava prima si parlava prima di cittadisti no se vi ricordate cittadisti era un accumulatore c'era una persona che c'aveva dentro diciamo una statua d'oro c'era cose del genere quindi ci viene da pensare ma cosa avrebbero potuto fare se in qualche modo avessero orientato al meglio no questo tipo di attività queste disponibilità potrebbe darsi che magari il nostro debito pubblico no poteva essere diverso ci potevano essere scuole strutture cioè questo diciamo nel retro gusto quello che viene pensato no perché spesso i florentini l'essere umano non è che ragiona su quello che qualcuno ha fatto in determinati territori ovviamente in quei territori esclusivamente a vocazione democristiana per essere chiari perché poi parliamo insomma parliamo diamo nomi e cognomi alle cose però che cosa avrebbero potuto fare nella misura in cui avessero colto appieno il senso etico della loro missione è quello diciamo il retro gusto dell'amaro che rimane in bocca ma insomma è una riflessione è la domanda che resta senza risposta perché non c'è una risposta su cosa avrebbe potuto essere il territorio il paese se le cose fossero andate in maniera diversa forse lascia ancora più amare in bocca questo è vero però piuttosto che tirar fuori luoghi comuni che se mio nonno avesse avuto le ruote non poteva essere una carriola qualche riflessione la possiamo fare lo sai perché perché magari questo serve un po' può servire da monito per il futuro no? alla fine insomma noi costantemente in maniera puntuale abbiamo la possibilità di scegliere chi ci deve rappresentare e quindi possiamo in qualche modo scegliere abbiamo la possibilità tra i costituzionalisti ci hanno messo nella condizione di poter scegliere no? ora possiamo fare tante diverse scelte fare delle scelte dove qualcuno magari prende a calci le persone benissimo ti piace fatevi ai calci va bene franco poi è eternano quindi ognuno insomma lascia la scelta no no era così per dire ognuno possiamo scegliere diciamo di avere persone che ci governano e magari hanno mandato operare a un comune cioè possiamo fare qualsiasi cosa perché poi magari ognuno di noi ha la sua capacità no? però magari quello che è successo nel progresso molto probabilmente ci dovrebbe dare una grande mano non ad allontanarsi dalla politica intendendo politica il polis tutto quello che i greci per l'oronatura avevano in testa di cosa potesse essere la politica e invece no ci disinteressiamo perché diciamo andando sono tutti così non è vero secondo me non è vero speriamo che non sia vero sennò sarebbe triste come cosa no se noi facciamo allora io volevo dire due cose prima per chiarezza che l'esportare denaro all'estero in quel momento non era considerato un reato quindi queste persone non è che si erano macchiate di un reato diciamo che era una cosa inopportuna no? magari da fare sottrarre del denaro al fisco eccetera però non era ancora configurato come un reato come lo intendiamo oggi questo per per chiarezza e poi io non posso non inchinarmi alla citazione di Umberta Lunni in tema di Star Wars perché per un appassionato sente dire no? il lato scuro della forza quindi stasera abbiamo fatto una carrellata tra maghi fate eccetera e poi siamo arrivati a Star Wars quindi adesso allora riportiamo in terra un po' la situazione perché hai parlato anche di Umberto come ciclista come appassionato di ciclismo come ciclista ma infatti lo vorrei vedere io sono Zoccolano tra poco ci arriva anche i campi oppure il mortiroro non lo so mi piacerebbe no eh scusa non vorrei dire niente perché voglio semplicemente dire con molta buona pace diciamo della tua fisicità che lascia in travedere in maniera insomma abbastanza evidente diciamo la tua verve che che praticamente quando c'era la ragazza a 15 anni no 17 anni sono andata a comprare una bicicletta a Cesena penso da vicini per dirti e ancora ce l'ho la bicicletta ce l'ho perché no ma sta lì non è che l'ho mai usata è comprata la bicicletta è in tonza la bicicletta la comprata la portata giù da Cesena e lì è rimata ci sono andata per poco insomma non ho la sindrome da Pinerola insomma Mario Moretti con me non avrebbe fatto no bene allora prima di di ricominciare sentiamo un altro audio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti non so se sia giusto se sia giusto dire certe cose in pubblico forse c'è che va oltre il pudore forse Roberto non l'avrebbe fatto anzi Roberto non l'avrebbe fatto senza altro Roberto Calvi nato a Milano nel 1920 presidente del Banco Ambrosiano già studente alla Bocconi non termina il corso ma parte per il fronte russo dove come ufficiale di cavalleria si conquista molti meriti sul campo entra nell'istituto come semplice impiegato e vi percorre una folgorante carriera negli anni 70 si allea con Sindone che lo introduce nell'alta finanza e nei segreti della borsa e delle società con sede nei paradisi fiscali con l'appoggio del Vaticano trasforma l'onesto e prudente Ambrosiano in una banca d'affari acquista il credito Varesino la compagnia di assicurazioni Toro poi la cattolica del Vento entra nel giro dei politici della massoneria e in quello della carta stampata fino alla fuga al clamoroso crack e alla misteriosa morte sotto il ponte di Londra questa l'irresistibile ascesa e caduta del ragionier Roberto Calvi e chi l'ha ammazzato? facciamo come Sherlock Holmes facciamo fare una lista non faceva così Sherlock Holmes beh facciamo come Sherlock Holmes allora chi aveva chi aveva interesse a nascondere di essere già in bancarotta? chi l'aveva? lo IOR la banca vaticana mi pare che qui c'è qualcuno che ha detto no? la toccata piano come si dice si appena appena che sera la signora Calvi chiaramente ha dato una bottarellina così leggermente una spintarella sulle motivazioni vai beh allora prima di arrivare a Roberto Calvi c'è ancora da sistemare un piccolo particolare mica tanto piccolo su Michele Sindona perché il crack della banca privata italiana fa sì che la banca d'Italia ponga i suoi occhi proprio su questo istituto perché se vi ricordate l'altra volta parlavamo dell'OIOR e dicevamo che l'OIOR per sua natura non può essere sottoposta alla vigilanza della banca d'Italia l'OIOR è una banca estera a tutti gli effetti e quindi la banca d'Italia non può intervenire sull'OIOR ma su una banca come la banca privata italiana la banca d'Italia può intervenire come? Quindi a fronte di questo crack la banca d'Italia nomina un liquidatore un personaggio che metta ordine nei conti disastrati delle banche di Sindona e vada a restituire i soldi ai creditori di questa banca la persona incaricata di fare tutto questo è l'avvocato Giorgio Ambrosoli un avvocato stimato conosciuto a Milano a cui appunto la banca d'Italia chiede di mettere ordine nei conti delle banche della galassia di Sindona e di riuscire a trovare quei soldi per rimborsare i creditori Ambrosoli comincia subito ad essere oggetto di pressioni e di tentativi di corruzione perché come diceva la la vedova Calvi nel contributo audio di poco fa sono in molti a non volere che poi le cose vengano messe allo scoperto sono molti coloro che hanno tutto l'interesse affinché il fallimento di Sindona e tutto quello che ne potrebbe conseguire venga sottaciuto nonostante queste enormi pressioni a cui viene sottoposta Ambrosoli il lavoro che riesce a portare avanti è incomiabile e ribadisce al termine di quella che è la sua il suo il suo incarico ribadisce appunto la necessità di liquidare la banca privata italiana e soprattutto fa sì che possano essere riconosciute debbano essere riconosciute la responsabilità di Michele Sindona perché quel crack non è avvenuto così per caso è precisa responsabilità di Sindona dice Ambrosoli tutto quello che è successo qual è il risultato di tutto questo è che l'undici luglio del settantanove Ambrosoli viene ucciso con quattro colpi di pistola da un killer italo-americano che si chiamava William Joseph Haricot incaricato appunto dallo stesso Sindona di togliere di mezzo Ambrosoli togliere di mezzo Ambrosoli perché non si voleva che si si riuscisse a porre in liquidazione la banca privata italiana ma soprattutto perché quello doveva essere quell'omicidio doveva essere un messaggio indirizzato a uno degli altri grandi protagonisti del mondo finanziario di quegli anni Enrico Cuccia il presidente di Mediobanca che era uno dei più acerrimi avversari e nemici di Michele Sindona quindi Ambrosoli viene tolto di mezzo c'è rimasto ancora da capire che fine fa Roberto Calvi perché in tutto questo Roberto Calvi sembra non essere toccato dal crack di Sindona in realtà la mattina del 9 novembre del 77 Milano si sveglia tappezzata di manifesti di manifesti che accusano Roberto Calvi di tutta una serie di reati nella gestione del banco Ambrosiano i milanesi restano sbigottiti da questa cosa da questa iniziativa che è un'idea proprio di Michele Sindona perché Sindona fa questo perché Sindona sta ricattando Calvi affinché Calvi gli fornisca i soldi necessari al salvataggio delle sue banche ma forse è impossibile cioè il buco di bilancio delle banche di Sindona è talmente grande che Calvi può fare ben poco però sicuramente un prestito fatto dal banco Ambrosiano riuscirebbe a risolvere almeno una parte dei problemi di Michele Sindona Calvi resiste alle pressioni di Michele Sindona che quindi decide di metterlo sotto scacco appunto facendo tappezzare Milano con questi manifesti che lo accusano di tutta una serie di reati e poi c'è la pressione che esercita Licio Gelli il maestro venerabile il capo della loggia P2 proprio su Roberto Calvi che alla fine deve cedere e pressa mezzo milione di dollari a Sindona mezzo milione di dollari con i quali Sindona appunto riesce a risolvere solo una piccola parte dei suoi problemi però a quel punto è chiaro che tutto quello che è stato costruito che è solo un gigantesco cassello di sabbia sta crollando anche Calvi è arrivato al valico del Mortirolo dello Zoncolan e ha iniziato la discesa che Sindona aveva iniziato qualche tempo prima il Banco Ambrosiano si trova ad affrontare una gravissima crisi di liquidità per due volte viene salvato da due finanziamenti la prima volta dalla BNL dalla Banca Nazionale del Lavoro e la seconda volta addirittura da un prestito dell'ENI che sborsa quasi 200 milioni di dollari a favore del Banco Ambrosiano di questi 200 milioni di dollari 7 milioni finiranno in Svizzera in una banca che si chiama OBS a Lugano in un conto che diventerà famigerato e tristemente famoso qualche anno dopo perché quel conto si chiamava conto protezione e è il conto dove appunto transitavano tutta una serie di tangenti destinate al Partito Socialista italiano bene in quel conto ci finiscono anche i 7 milioni di dollari che sono la tangente pagata da Calvi per ottenere quei due prestiti che danno un po' di ossigeno al Banco Ambrosiano che è in gravissima crisi nell'81 quindi qualche anno dopo succede un'altra cosa che dà un altro colpo a questo punto definitivo alla situazione di Roberto Calvi è la scoperta a Villa Vanda che è l'abitazione la residenza di Licio Gelli degli elenchi degli affiliati alla P2 si scoprono tutta una serie di personaggi che vanno da grandi esponenti del mondo finanziario industriale a militari a esponenti dei servizi segreti a politici che fanno parte di questa loggia massonica super segreta e che avrebbe in qualche modo condizionato la vita politica italiana e non solo quella politica negli ultimi decenni a quel punto crolla come dicevamo tutto il castello di sabbia Calvi capisce di essere rimasto senza nessuna protezione perché Sindona si trova in una situazione peggiore della sua la P2 quindi Licio Gelli sono stati scoperti forse gli resta solo l'aiuto del Vaticano e è al Vaticano che Roberto Calvi si rivolge per chiedere aiuto per salvare quello che ha costruito in tanti anni e il Vaticano nella persona soprattutto come dicevamo prima di Monsignor Marcinkus e dello Iorra sembrano disposti ad aiutare Calvi ad una condizione il Vaticano è disposto a firmare delle lettere di garanzia di fideliussione sui debiti delle banche di Roberto Calvi a patto che Calvi firmi una serie di dichiarazioni di responsabilità con cui si assume l'onere di tutto quello che è successo nel passato nel presente e anche per le operazioni future da parte del Banco Ambrosiano perché al Vaticano sta così a cuore una dichiarazione di questo tipo perché lo Ior è legato mani e piedi al destino del del Banco Ambrosiano e quindi per il Vaticano è importante che qualcun altro si assuma la responsabilità di tutta quella serie di operazioni finanziarie a dir poco allegre che sono state portate avanti dal Banco Ambrosiano con i soldi dello dello Ior a questo punto Calvi si vede abbandonato da tutti anche dal Vaticano e l'unica cosa che gli resta di fare almeno così lui pensa è quella di fuggire all'estero fuggire all'estero in cerca di qualche aiuto ma soprattutto fuggire all'estero per sfuggire alla giustizia italiana decide di rifugiarsi a Londra dove la mattina del 18 giugno del 1982 come ricordava il contributo di prima viene trovato morto impiccato sotto al ponte dei Frati Neri una morte strana perché nelle tasche di Roberto Calvi vengono ritrovati circa 16 mila dollari in contanti ma soprattutto nelle tasche della giacca e dei pantaloni si scoprono una serie di pietre di pesanti pietre con le quali il corpo sarebbe stato zavorrato quindi per fare in modo appunto che quell'impiccagione fosse assolutamente letale è un messaggio forse sì forse è un messaggio per chi si illude che le cose possano essere risolte scappando da altre parti l'iter processuale fa il suo corso quella che era stata la richiesta della magistratura le indagini della magistratura vanno avanti il 6 agosto dell'82 il Banco Ambrosiano viene messo in liquidazione ma a quel punto i commissari liquidatori incaricati della liquidazione fanno una richiesta allo IOR siccome lo IOR è un azionista del Banco Ambrosiano è stato direttamente coinvolto in tutte le operazioni più importanti di quella banca i liquidatori chiedono allo IOR di saldare la propria parte del debito del debito che ammonta una cifra stratosferica perché si parla di un miliardo e mezzo di dollari degli anni 80 il Vaticano non fa una piega Marcinkus non fa una piega non ammette nessuna responsabilità nel crack del Banco Ambrosiano e avvia una trattativa estenuante che durerà mesi in Svizzera con l'autorità italiana e quindi in territorio neutrale che però darà i suoi frutti perché il Vaticano a fronte di un miliardo e mezzo di dollari che gli sono stati richiesti come risarcimento e come propria parte del debito del Banco Ambrosiano da saldare riuscirà a cavarsela solo con 250 milioni di dollari quindi una cifra irrisoria rispetto al miliardo e mezzo di dollari che gli erano stati richiesti a questo punto ci è rimasto di conoscere il destino di Sindona perché Sindona è andato incontro a una gravissima crisi finanziaria ma è ancora vivo siamo negli anni sul finire degli anni settanta e Sindona che cosa ha fatto? Si è rifugiato in America poi però è dovuto scappare dagli Stati Uniti perché il governo statunitense l'ha messo sotto accusa per tutta una serie di neati finanziari e legati alla malavita organizzata scappa si rifugia in Italia si rifugia in Sicilia finge addirittura di essere vittima di un finto sequestro arriva a farsi sparare in in una gamba dal proprio medico personale per simulare appunto questo finto rapimento poi così conciato quindi con questa messiscena del finto rapimento e con una gamba ferita torna negli Stati Uniti sperando di riuscire a farla franca invece il governo statunitense porta avanti le sue cause contro Sindona e lo condanna a 25 anni di carcere per il crack della Franklin Bank a quel punto Sindona si sente tutto sommato tranquillo nelle carceri americane mai si aspetterebbe di dover tornare in Italia perché non pensa assolutamente che il governo italiano possa presentare una domanda di estradizione perché Sindona conta ancora molto su tutta una serie di amici importanti che ha in Italia che invece però in questa occasione non lo salvano perché il governo italiano presenta una richiesta di estradizione agli Stati Uniti gli Stati Uniti l'accettano e il 25 settembre del 1984 Sindona viene fatto rientrare in Italia e viene incarcerato a Voghera nel carcere di Voghera prima di arrivare alla conclusione di questa puntata io mi sono imbattuto in un'altra cosa diciamo così curiosa perché pochi giorni dopo che Sindona viene riportata in Italia e che è incarcerata a Voghera esce un articolo sul Sole 24 Ore e lì dedica un'intera pagina e una delle domande che il giornalista del Sole 24 Ore si fa è pensabile che Sindona il quale vive nel terrore di ricevere prima o poi un caffè alla pisciotta si metta ora a raccontare qualche particolare che cos'è il caffè alla pisciotta pisciotta era uno dei primi collaboratori di giustizia mafiosi che dopo aver parlato dopo aver raccontato una parte di quello che sapeva ai magistrati italiani venne avvelenato con un caffè mentre si trovava appunto in carcere e il Sole 24 Ore curiosamente sei mesi prima circa della morte di Sindona si chiede ma è pensabile che Sindona che vive in questo terrore cioè vive nel terrore di finire avvelenato per un caffè si metta ora a parlare che cosa c'è di curioso che passano alcuni mesi il 16 marzo del 1900 il 18 marzo del 1986 Michele Sindona viene condannato anche per l'omicidio di Ambrosoli passano due giorni e una mattina la guardia carceraria addetta al controllo dei detenuti entra nella cella di Michele Sindona e lo trova morto riverso a terra l'autopsia dirà che la morte è dovuta appunto a un caffè avvelenato o meglio corretto con il cianuro e quindi ecco la curiosità di quell'articolo del Sole 24 Ore che due anni prima che Sindona venisse avvelenato in carcere appunto con un caffè corretto al cianuro si chiedeva ma è pensabile che Sindona che vive con questo terrore di fare questa fine si possa mettersi a parlare un articolo che più premonitore di quello non poteva essere per raccontare con due anni d'anticipo la fine di quello che era stato osannato come uno dei più grandi finanzieri internazionali e che poi era finito nel giro di pochi giorni ad essere considerato uno dei più grandi e potenti criminali e questa è appunto la storia di due dei personaggi più controversi di quegli anni in Italia nel prossimo appuntamento di Misteri andremo a conoscere colui che manovrava i fili come un grande burrattinaio un arcivescovo il cui credo era non si può governare la chiesa solo con le ave maria e questo la dice tutta su quello che era il suo modo di pensare quindi sarà importante e interessante secondo me anche conoscere questo personaggio così particolare come l'arcivescovo Marcinkus stasera abbiamo messo tanta carne al fuoco devo dire abbiamo scoperto cose che non conoscevamo questa cosa dell'articolo non la conoscevo e devo dire che è leggermente inquietante e poi anche tutta la storia di Calvi soprattutto della morte tutto quello che gira intorno alla morte ho visto anche dei video addirittura ci hanno messo in mezzo cutolo quindi c'è tutto un discorso anche camorra è stato diciamo un minestrone di situazioni abbastanza fuori dalle righe che poi hanno portato o hanno concausato quello che alla fine è stato il destino di Calvi Sindona secondo me era segnato da parecchio perché penso che quando è stata chiesta l'estradizione già si era immaginato quello che succedeva in Italia sicuramente perché aveva troppi segreti aveva troppe conoscendo quanto quanto caffè si beve in Italia sicuramente se lo si era immaginato se lo si era immaginato io avrei evitato prendere il caffè però io mi sarei buttato sul tè all'inglese anche se poi l'Inghilterra non è che ha portato tanta fortuna a Calvi però insomma ma un bicchiere d'acqua no è un bicchiere d'acqua del rubinetto però o una dentro una borraccia della bicicletta di Umberto esatto sta troppo in alto perché l'ho messa su quindi non è l'appesa proprio al chiodo assolutamente assolutamente comunque veramente è stato una bella un bel escurso una bella storia e ogni tanto insomma per quanto ci possa riguardare anche per l'età che abbiamo è un ricordare no perché insomma gli anni 80 sono stati anche costellati da questi tipi di situazioni di storie e poi ovviamente siamo arrivati al prodotto degli anni 90 dove insomma si è un po' ricostruito ricostruito tutto in che modo non lo so ma insomma sono stati questi diciamo tutti segnali per i monitori che si stava incedendo no? andavamo stavamo troppo diciamo stavamo debordando era un po' una sorta di torre di babbele che insomma aveva bisogno di essere un po' sistematizzata mi ha colpito particolarmente un aspetto mi ha ricordato per il mestiere che ho fatto il fatto del rapporto offshore diciamo con le situazioni e poi in un secondo momento quando si accorge ci si accorge delle situazioni non sono compliant con il buon vivere no? civile si impostano le norme non avviene mai la situazione in cui prima viene definita la norma e poi ovviamente si 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 hanno i comportamenti che riguardano la norma ma è l'esatto contrario no? quindi la spesso e volentieri la intuizione malvagia no? di derogare da un filone un filone convenzionale per così dire stimola poi il legislatore a tirar fuori la norma che regola il presupposto è chiaro che insomma da parte di persone eh di 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 un simile rango prendere soldi e portarle all'estero insomma vero è che non c'era una norma che lo vietava ma è altrettanto vero che insomma si si stava fortemente schifosamente debordando una delle limiti del convenzionale e quindi poi ecco insomma è stata tirata fuori questa cosa è come quando si si ricicla il denaro prima di lui lo ricicli poi c'era la norma ma insomma quando lo riciclo sai che non è il caso che venga che venga fatta una cosa del genere no? però funziona come il doping nel ciclismo per rimanere in casa come? è come il doping nel ciclismo è la stessa cosa insomma pellegrini d'Oshet da questo punto di vista è stato io che ho scoperto il doping che è suo particolarmente ha tenuto un assuntore attentissimo che ancora non hanno preso insomma che sta ancora correndo in giro e quindi è proprio così è come il doping nel ciclismo perché insomma sarebbe bellissimo fare anche una puntata su tutte le persone che in qualche modo lo hanno adoperato in maniera più o meno scaltra e probabilmente sono diventati grandi anche perché non c'erano sistemi e meccanismi che oggi li avrebbero in qualche modo penalizzati no? vabbè fa parte del gioco fa parte del gioco però insomma ci fa capire come l'essere umano in qualche modo sia strano ricerchi costantemente derive situazione diciamo da quello che è il limite il bello l'opportuno del convenzionale Paolo questo è segno da dare mamma mia è quasi come fa il piacere della prossima occasione vabbè questo ormai è diventato un must sì l'hanno scritto sulla Tercani l'hanno messa lì sì sì poi uno è morto purtroppo due poi hanno scritto i quattro gatti capito ecco almeno stavo a posto le potette tutte tanto Franco ormai è abituato e così allora bene siamo arrivati a conclusione e anche questa sera è una bellissima puntata Franco ci regala delle bellissime puntate sempre e devo dire che vi consiglio anche chi non ha ascoltato le prime puntate di Mister di andarle ad ascoltare perché almeno comincia si incomincia a intravedere il percorso che stiamo prendendo per arrivare a definire nel giro di tutta questa stagione il caso Orlandi bene che dire allora io ringrazio Franco ringrazio Umberto e diamo appuntamento al prossimo misteri ma Franco lo ritroveremo fra circa 15 giorni con accadde oggi quindi Franco ormai sta dentro fino al collo qui con Ameria Radio è una puntata importante anche quella che accadde oggi perché parleremo di una cosa che in pochi conoscono quindi vale la pena ascoltare devo dire adesso così tanto non ci sente nessuno che sia accadde oggi che misteri stanno raccogliendo il piacere il favore del nostro pubblico perché ho l'impressione poi dalle statistiche ma più che altro per capire che cosa ascoltano vanno indietro e fanno un percorso devo dire su accadde oggi è molto più diciamo sedimentato perché sono molte più puntate su misteri si sta sedimentando devo dire che il piacere mio e di Umberto di avere Franco con noi è proprio perché dà alla nostra radio insieme anche non dimentichiamoci David con queste trasmissioni un taglio che è quello che piace a me e a Umberto devo dire perché lasciamo perché lasciamo perché resta nel nostro repository veramente delle storie bellissime che uno ha piacere anche di riascoltare e quindi veramente di seguire un percorso di questo ringraziamo Franco che veramente ci fa grazie a voi che mi date l'opportunità di fare ma assolutamente sì questo è un piacere vedrai che ad Maiora a buon intendito eh Umberto vabbè si è anche in Gret sì vabbè non ci sono più le mezze stagioni va bene ecco allora andiamo 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 avanti così perché scusa Paolo veramente mi volevo accodare ai ringraziamenti a Franco perché indubbiamente queste queste trasmissioni stimolano proprio diciamo il percorso camaleontico e poi diciamo no ritornare indietro andare avanti ma poi questo è un po' nello spirito della nostra radio perché eh da quando abbiamo scelto eh vuol dire che insomma Paolo eh inutile dirlo ma insomma è stato il primo ispiratore quindi insomma lui ha riconosciuto anche questo questa primo genitura da quando abbiamo individuato il filone anche delle tematiche no? cioè tematiche che vanno avanti in un certo modo con grande serenità ovviamente con un grandissimo grado di libertà però sono tematiche sequenziate che hanno ovviamente una loro ragione una loro logica e questo ovviamente è come giustamente diceva Paolo è particolarmente gradito quindi ben venga Franco non comincerà a andare in giro a altre parti a altre nade perché veramente insomma ci faresti anche un po' disperare da questo punto di vista noi ti aspettiamo il 15 non alzare il prezzo perché più di questo non possiamo e Paolo lo sa che insomma siamo così siamo in situazioni insomma un po' ecco è bello nei secoli sì ma fin quando ci sciolgono diciamo le cosine offshore che abbiamo insomma non abbiamo possibili di poter adesso parliamo con un parete di cintura beh vedremo qualche modo col mare giorni visto che facendo le piccole si sta scherzando per chi ci ascoltasse siamo un APS sì sì no vabbè non è sicuro un po' allora è più brutta insomma un po' di cortisone ma via la PS via va via non è un problema bene allora buonanotte a tutti grazie Franco grazie a voi e alla prossima Ameria Radio ha presentato misteri non deve morire Ameria Radio la radio che non c'era grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti